in questa lezione approfondiamo la conoscenza degli etf short e a leva cosa sono e come si usano e ci aiuterà a comprenderli meglio marcello kelly referente per il xor etf in italia come sappiamo gli etf sono replicanti passivi di indici borsistici guadagnano se l'indice aumenta e viceversa ma ci sono etf che consentono di puntare anche al ribasso e quindi di guadagnare anche se l'indice perde sono gli etf short vediamo come funzionano gli etf short dato un indice tradizionale come per esempio il fuzzimib hanno l'obiettivo di avere un rendimento che è inverso rispetto a tale indice questo vuol dire che se il fuzzimib fa più 1 per cento nella seduta di negoziazione essi faranno meno 1 per cento se il fuzzimib dovesse fare meno 2 per cento l'etf farà più 2 per cento quindi vogliono essere speculari rispetto all'andamento dell'indice etf short possono essere due tipi uno con leva meno 1 e l'altro con leva meno 2 ovviamente a leva meno 2 mi raddoppierà l'effetto di rendimento che avremo sull'etf rispetto al proprio indice perché vengono utilizzati gli etf short possono essere utilizzati in varie occasioni in un'ottica puramente speculativa cioè quando uno si aspetta uno storno del mercato quindi una discesa del mercato allora investirà in maniera speculativa sull'etf short oppure quando si ha l'obiettivo di coprire il proprio portafoglio nel senso che un portafoglio che per tanti motivi in uno storno di mercato non posso vendere in quel caso mantengo il mio portafoglio ma su questo portafoglio vado come studiare in termini tecnico a montare una posizione corta attraverso gli etf o ancora possono essere usati abbinati a un etf long o un'altra posizione lunga per creare strategie cosette long short market neutral ma in questo caso si tratta di una tematica diciamo piuttosto tecnica dove eventualmente si ritornarà in seguito abbiamo visto finora cose sono e come si usano adesso cerchiamo di capire quali sono i rischi e quali sono i vantaggi di questa tipologia di etf il tf short come anche gli etf diciamo tradizionali hanno il vantaggio di essere negoziati su borse una modalità molto semplice come quella prevista per le azioni hanno un lotto minimo di investimento che pari a un etf quindi a poche decine di euro e hanno un costo molto contenuto tra i vantaggi se così possono essere definiti è che l'investitore non può perdere ancorché siano strumenti speculativi più del capitale investito inizialmente e per quanto riguarda gli etf short con leva meno 2 permettono di avere un minor uso del capitale perché raddoppiando il rendimento dell'indice in maniera inversa ho necessità di avere un minor capitale investito per ottenere lo stesso obiettivo per quanto riguarda i rischi quello principale da mettere in evidenza è il cosiddetto compounding effect o effetto dell'interesse composto che cosa significa significa che effettivamente l'etf ha una leva meno 1 o meno 2 rispetto all'indice long tradizionale però questo viene ribasata ogni sera cosa vuol dire in termini molto semplici vuol dire che se è vero che l'etf avrà sempre una performance pari a meno 1 o a meno 2 rispetto all'indice tradizionale durante la saluta di negoziazione su un arco temporale maggiore cioè su più giorni di negoziazione la performance dell'etf non sarà pari alla performance dell'indice moltiplicata per meno 1 o per meno 2 il compounding effect può essere gestito attraverso un aggiustamento periodico della posizione che si ha sull'etf short però diciamo è una technicality che può essere applicata soprattutto dagli investitori più esperti finora abbiamo capito cosa sono gli etf short meno 1 e meno 2 adesso cerchiamo di capire cosa sono gli etf a leva più 2 gli etf a leva positiva più 2 sono quegli etf che dato un indice tradizionale non so il fuzzimib danno esattamente il rendimento di questo indice moltiplicato per più 2 può essere un rendimento positivo o negativo perché se l'indice tradizionale fa più 1 ovviamente l'etf farà più 2 ma se l'indice tradizionale facesse meno 1 come rendimento l'etf farebbe meno 2 sono da fare un po' le stesse considerazioni già fatte anche per gli etf short cioè che grazie alla leva c'è un minore uso di capitale perché per avere gli stessi risultati ho necessità di impiegare metà capitale rispetto a quanto dovrei fare con un etf tradizionale leva più 1 e c'è il problema come anche per gli etf short del effetto del tasso composto compounding effect che andrebbe gestito opportunamente su periodi di investimento composti da molteplici giorni vediamo quali e quanti indici possono essere replicati con gli etf short e a leva gli etf a leva e gli etf short hanno come sottostante solamente i principali indici azionari e obbligazionari quindi fra quelli azionari possiamo ricordare i fusi mib il dax l'euro stock 50 per quanto riguarda quelli obbligazionari gli indici che vengono realizzati sul btp sul bund o sui us treasury quindi sui titoli di stato americani quindi quando parliamo etf con leva meno 1 meno 2 e più 2 la gamma di sottostanti è decisamente più limitata abbiamo visto che questi etf sono un po sofisticati e complicati sono adatti a tutti gli investitori assolutamente no gli etf short e a leva devono essere utilizzati solamente ad investitore con un'elevata conoscenza sullo strumento e che abbiano un'elevata propensione al rischio quindi assolutamente limitati a un ristretto numero di investitori attenzione